Il cross a cercare Retechi, colpo di testa centrale, avrebbe potuto fare meglio. Goodmanson, avanza palla al piede, buona finta di corpo, poi apre a sinistra. Vasquez pensa al cross, ma addirittura in porta, traversa e poi palo, allontana la Lazio. Pericoloso il Genoa al dodicesimo con Vasquez. Lancio lungo per Goodmanson, la mette giù per sfidare Lazzari. Lato corto, Goodmanson avanza, mette il cross, casale di testa, poi Frendrup, calcio, Provedel, Retechi! Avanti il Genoa, con il primo gol del Ciappita, anche in campionato. È il terzo in Italia dopo la doppietta in Coppa Italia. Genoa avanti 1-0, Retechi! Camada, poi Felipe Anderson arriva al tacco di Zaccagni, immobile nella mischia, ancora Dragusin di testa, tiro! Dragusin, ancora! E alla fine, Savelli può allontanare. L'intervento di Banni qua, forse lo vediamo meglio. Si può proseguire, dice Marinelli. Zaccagni, la finta di corpo, poi il cross sul secondo. Il pallone arriva lento da Luis Alberto. Che ragione, poi cerca la porta! Martinez, ma che giocata aveva provato Luis Alberto! Luis Alberto, tocco corto per la conclusione deviata. È alzata sopra la porta del Genoa. Ci ha provato Zaccagni. Zaccagni. Sfira duello, Savelli è più veloce. È andato Zaccagni. Dentro con sinistro Dragusin, respinta, corta, immobile, traversa! E poi la palla esce. Sfiorato il pareggio da Ciro immobile. Pellegrini per un attimo pensa al tiro, poi va largo da Zaccagni. Palla sul destro, traversone. Tagliato colpo di testa! Con la palla che sfila. Ci ha provato Castescianos. Lancio lungo a cercare Ecoman. Buona posizione, sterza per andare sul sinistro. E calciare! Sul fondo, ma che occasione per chiuderla! Titoli di coda! Il Genoa ritrova il successo in Serie A. Batte la Lazio 1-0.